Musica Cari amici, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Antena Sud e naturalmente anche nella giornata di Santo Stefano. Un augurio da tutta la nostra redazione giornalistica in apertura. Diamo uno sguardo alla situazione Covid in Puglia con il bollettino epidemiologico della regione Puglia che ha reso noto poco fa, ci sono 883 nuovi casi nella nostra regione su 13.128 test processati. In particolar modo questa la distribuzione per le diverse province. Nel Barese 271 nuovi casi, nella provincia Abate 18, nel Brindisino 158, in provincia di Foggia 164, nell'Eccese 220, in provincia di Taranto 33, fuori regione 14 casi e 5 con provincia in via di definizione. Intanto oggi un open day vaccinale all'hub di Molfetta. Aumentano i contagi anche in queste vacanze natalizie, per cui c'è la scelta di aprire alcuni hub vaccinali in provincia di Bari. Questo è quello di Molfetta. Siamo al 26 di dicembre e la gente, soprattutto chi ha paura di queste varianti, ma soprattutto del Covid che corre, ha scelto di vaccinarsi in questo giorno. Questo virus corre, per cui è il caso di aprire gli hub anche durante le festività, dottore? Esattamente, ha perfettamente ragione. È quello che stiamo facendo. Gli operatori sono stati tutti quanti molto contenti di venire a lavorare anche in una giornata come questa. E le confesso che in realtà anche c'è un'ottima adessione da parte della popolazione. Noi avevamo in programma di fare i prenotati, ma in realtà è diventato un open day. Quindi stiamo vaccinando tutti quelli che passano nell'arco di metri dal lab. La campagna vaccinale proseguirà ovviamente anche nei prossimi giorni, con l'apertura del Palacozzuli programmate. Ma ecco, vi confesso che abbiamo in essere, stiamo programmando, un open day dedicato unicamente alla fascità pediatrica. Fanno bene comunque a tenerle aperte anche in questi giorni di festa? Sì, che fanno bene. È normale. Paura di questo Covid? Penso che tutti quanti hanno paura. 26 di dicembre in fila per un vaccino? Sì, bisogna farlo. Questa sarebbe la seconda dose? No, la terza dose. Come stanno andando le adessioni? Abbastanza molto bene e stiamo ancora avendo persone alla prima dose che stanno venendo. Si stanno convincendo pian piano anche i più? Si stanno convincendo, sì. Però stava fluendo molto bene. Sono solo di Molfetta o stanno venendo anche da paesi limiti? Da Pari, da Modugno, da Canossa, da Biceglie, parecchi. E se da una parte ci si continua a vaccinare, ci sono anche gli effetti sugli imprenditori, sul tessuto economico anche della Puglia con le nuove restrizioni a causa del Covid. Oggi la nostra Claudia Carbonara si è interfacciata anche con alcuni di loro. Discoteche e sale da ballo, ad esempio, resteranno chiuse il 31 dicembre, nell'occasione del Capodanno. Rischia di tornare in ginocchio questo settore. Alcuni imprenditori hanno paura per il prossimo futuro e chiedono maggiore chiarezza da parte del Governo. Ascoltiamo. Alberto Cassotti, nuovi provvedimenti, nuove restrizioni per cercare di contenere questo Covid, ma vi sentite ancora vittime della situazione? Penso che sia sotto gli occhi di tutti. In realtà, per l'ennesima volta, mi vedo costretto a ribadire un concetto. Il Covid c'è, esiste, è un grande problema che noi abbiamo cercato di risolvere facendoci vaccini e tutto quanto. Purtroppo così non è. Il problema che viene sempre colpita solo è unicamente la nostra categoria, che è la categoria degli eventi in genere. Chiudere le discoteche si può anche fare. Non ci sono problemi, ma dare un preavviso. Non si può 24 ore prima dire alle persone abbiamo scherzato. Tutto quello che avete fatto, tutto quello che avete organizzato potete buttarlo. A noi non interessa. Ci chiudete 24 ore prima, ci date i soldi. Chiaramente non se ne parla, anche in questo caso. E per l'ennesima volta noi siamo vittime di un sistema, direi quasi carnevalesco. Ripeto, tenendo presente il problema che esiste, è reale e c'è. Abbiamo salvato i cenoni di Capodanno, ok, va bene, perfetto, va bene anche questo. Però chiudere sempre le stesse categorie, non dando l'occasione e l'opportunità ai gestori, ai colleghi, di potersi organizzare anticipatamente. Bastava dire il 15 dicembre. La sensazione è che la cosa potrebbe anche peggiorare per il 2022. Avete paura? Certo che abbiamo paura. Abbiamo paura perché la situazione è questa nel mondo, in Italia. Noi, ripeto, ci rendiamo conto. Ma noi siamo anche disposti a stare chiusi due, tre, quattro mesi come discoteche. Ma ci devono aiutare. Noi abbiamo delle spese. Noi abbiamo dei dipendenti. Abbiamo i fitti dei locali. Io veramente non mi rendo conto di cosa stanno passando i miei colleghi che gestiscono grandissimi locali. Veramente, guardate, non avete la percezione di quello che c'è dietro il nostro mondo. C'è un mondo parallelo che cammina. E questo, purtroppo, siamo terrorizzati. Sì, abbiamo paura. Siamo terrorizzati non solo del Covid, ma siamo terrorizzati per le nostre famiglie, per la nostra vita. Qua si tratta di sopravvivenza. Ma purtroppo non ci ascoltano. Noi non siamo essenziali. L'ha detto anche il nostro Ministro della Salute, Roberto Speranza. Non siamo essenziali. Ci colleghiamo adesso con il nostro studio di Bari, dove il direttore Gianni Sebastio ha con sé un ospite, il sindaco di Barino, che è presidente Anci Antonio De Caro. Facciamo il punto su queste festività con uno speciale messaggio proprio per i telespettatori di Antenna Sud. Ospitiamo nel nostro studio del telegiornale il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio De Caro, che salutiamo e ringraziamo, ma anche oggi in qualità in veste di presidente dell'Anci, l'Associazione dei Comuni d'Italia. Oggi possiamo tornare a stare insieme con i nostri amici, con i nostri parenti, grazie anche a una campagna vaccinale che per esempio nella città di Bari ha raggiunto delle percentuali altissime. Il 93% dei baresi è vaccinato due volte, il 91% ha già fatto la seconda vaccinazione, il 50% ha fatto già la terza vaccinazione, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, quindi l'auspicio è quello di recuperare il tempo che abbiamo perso, recuperare la quotidianità, recuperare il rapporto con le persone care, soprattutto in questi momenti in cui si sente di più nel periodo delle festività natalizie, la necessità del calore umano delle persone a noi più vicine. Io spero nel 2022 di poter recuperare anche delle attività che magari durante il periodo del lockdown abbiamo dovuto rallentare, spero di dare anche l'attuazione ai primi fondi che sono arrivati con il PNRR, le prime opere pubbliche importanti, che sono opere pubbliche caratterizzate tutte dalla voglia di stare insieme, di fare delle operazioni di ricucitura urbanistica, ma sono anche delle ricuciture di carattere sociale, aree per socializzare, per stare insieme e per recuperare il senso di comunità. Grazie Sindaco, gli auguri dell'intero staff di Antena Sud. Grazie a voi, auguri anche a voi. Voltiamo pagina adesso, la cronaca ancora sbarchi in Salento, in 72 sono giunti, nelle ultime ore a Santa Maria di Leuca. Paolo Franza. Non solo nella vigilia di Natale, ma anche nel giorno di Natale è stato registrato uno sbarco a Santa Maria di Leuca Marina di Castrignano del Capo. In 74 a bordo di una barca a vela sono stati intercettati nei pressi di Lido Marini dopo le segnalazioni di alcuni passanti. I militari della Guardia di Finanza della sezione navale hanno raggiunto il natante con una motovedetta per poi scortarli presso il porticciolo. Ad attenderli, oltre al personale del 118, le forze dell'ordine e anche vigili del fuoco che hanno supportato le operazioni di sbarco quando era oramai buio. Il gruppo, composto da due provenienti dal Pakistan, 10 dagli Iran e tutti gli altri dall'Afghanistan. Tra i 72 cittadini soccorsi anche tre donne iraniane, ben 25 minori non accompagnati. Due infine di nazionalità ucraina che al termine dei controlli sono stati arrestati su disposizione dalla Procura della Repubblica di Lecce. Il Polant Immigrazione Clandestina gli ha infatti ritenuti i presunti responsabili della traversata. Nel corso della serata l'intero gruppo è stato trasferito nei due centri di prima accoglienza del Salento il Don Tonino Bello di Otranto e Masseria Ghermia a Lecce. Un cittadino è stato condotto presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase a causa di una crisi ipogligemica. E in queste ore non sono mancate nemmeno le fiamme. Un incendio ha coinvolto alcune automobili nel Brindisino, per Marco Di Napoli. Due auto sono andate completamente distrutte e una terza è rimasta danneggiata in un incendio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Torre Santa Susanna. Le fiamme sono divampate in Via Galaso in una zona centrale del paese intorno alle 4. I mezzi coinvolti sono una Volkswagen Golf, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon. L'incendio sarebbe partito per circostanze in corso d'accertamento dalla Golf e si sarebbe steso poi alla Panda che era parcheggiata accanto. Entrambe le vetture sono andate completamente distrutte dalle fiamme. La Lancia Ypsilon è rimasta solo parzialmente danneggiata perché i proprietari hanno avuto il tempo di spostarla prima che venisse anch'essa inghiottita dall'incendio. Completamente annerita la facciata dell'abitazione davanti alla quale le vetture erano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che hanno contenuto l'incendio e i carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna ancora da accertare se il rogo sia di natura dolosa o se sia stato provocato da un cortocircuito. ha ammesso di aver intascato una busta con denaro da un imprenditore negando pregressi accordi corruttivi l'ex dirigente della protezione civile regionale Mario Lerario in carcere dal 23 dicembre lo ricordiamo dopo essere stato arrestato in flagranza di reato è stato sottoposto oggi a udienza di convalida assistito dall'avvocato Michele Laforgia l'indagato videocollegato dal carcere di Bari ha deciso di rispondere alle domande del GIP Anna Perrelli quando i finanzieri lo hanno fermato dopo averlo intercettato perché nella sua auto aveva da mesi delle microspie aveva ancora con sé la busta chiusa a quanto pare e a quanto si apprende l'imprenditore che avrebbe consegnato questa presunta tangente all'erario già interrogato in qualità di indagato avrebbe anche lui ammesso e adesso andiamo a Bari perché siamo nel pieno delle vacanze delle festività natalizie naturalmente si mangia si mangia tanto soprattutto in Puglia si mangia bene i chili aumentano qualcuno lo mette in preventivo insomma pranzi e cene sembrano interminabili ma quanto pesano i pugliesi noi siamo andati in giro con una bilancia guardate siamo nel pieno delle vacanze natalizie e i chili aumentano sempre di più con i pranzi e con le cene ma quanto sono ingrassati i baresi andiamolo a scoprire non ci vogliamo pesare abbiamo mangiato troppo devo mangiare ancora il cenone di capodanno ci pensiamo l'anno prossimo signora ha mangiato molto in questi giorni assolutamente si ha il coraggio di pesarsi si vediamo un po' tanto domani e lunedì si torna in palestra non lo so sessantadue e venti oddio quanti chili almeno due ma quanto ci siamo ingrassati in queste vacanze qualche chilo qualche chilo tanti chili eh no qualche dai forse un paio un paio che cosa abbiamo mangiato appena iniziate appena iniziate quindi contiamo altri tre quattro chili in più si va bene allora ci vogliamo pesare vediamo un po' si è lui e andiamo e andiamo quanto siamo ingrassati in queste vacanze quanti chili abbiamo messo quanti chili sono tantissimi due con queste vacanze ma con queste vacanze ancora uno e mezzo sono due due solo due però corriamo se no non li smalchiamo eh no è certo fumo mangio bevo eh qui come si fa a smaltire il tutto quanti ne dobbiamo perdere dovete correre con me quanti ne perdiamo due almeno quelli che ho preso bisogna correre però eh grazie ciao quanti chili abbiamo messo questi giorni eh penso tre o quattro almeno tre o quattro in quanti giorni in eh una settimana vediamo 84 beh sì andavo no no andavo 79-80 quindi un po' di meno 4 kg è andata abbastanza bene ma continueremo a mangiare? beh oggi sì poi da domani un po' di brodino a rallentare diciamo il picco di glicemia e di grassi buon appetito grazie altrettanto io sono ingrassata due chili in queste vacanze voi? peggio quanti chili? eh qualche chilo due due quanto pesava prima? 80 ora? 82 vediamo ti sei misurato e poi io ho mangiato 88 e 55 sì allora sono aumentato di qua di più di più qualche chilo sicuramente l'abbiamo ma quello è il giubbotto che è il giubbotto bravissimo e insomma anche questo fa parte della nostra mission di tv di servizio attenzione alla linea si penserà a questo già dal prossimo anno ma attenzione perché mancano ormai pochi giorni voltiamo pagina c'è l'ok per i fondi necessari per la messa in sicurezza della falesia di Torre dell'Orso ascoltiamo il consigliere regionale Mazzotta intervistato dai nostri giornalisti a Lecce missione compiuta la giunta regionale su sollecitazione del consigliere Mazzotta ha dato l'ok per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della costa di Melendugno in particolare quella di Torre dell'Orso con la procedura di somma urgenza lo ha comunicato in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Parri De Mazzotta che ha dichiarato avevo presentato un emendamento al bilancio regionale per destinare delle risorse ad hoc ma l'assessore piemontese in aula consigliere mi ha garantito che i lavori possono iniziare immediatamente la regione poi provvederà a ristorare il comune di Melendugno per le spese sostenute circostanze che hanno spinto la giunta a garantire la copertura degli interventi adesso quindi l'attenzione resta massima su quel tratto di costa e il consigliere Mazzotta afferma che vigilerà affinché non si perda tempo e si procederà con il celere avvio dei lavori necessari per restituire a Torre dell'Orso la sicurezza di cui ha bisogno in vista soprattutto dell'estate 2022 c'è sempre una prima volta ci riferiamo al panorama politico tarantino pensate domani PD e Movimento 5 Stelle presenteranno assieme una lista unica del centro-sinistra per le elezioni provinciali Leo Spalluto un simbolo unico la stessa lista chiamata Terra Ionica 2050 la medesima conferenza stampa alle 9.30 di lunedì 27 dicembre nella Salone La Caita della Palazzo della Provincia una prima volta da non sottovalutare quella che vedrà coinvolta insieme Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nella presentazione della lista comune che parteciperà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto l'annuncio è chiaro ci saranno consiglieri comunali sindaci consiglieri regionali parlamentari e dirigenti dei partiti che hanno aderito alla lista anche Taranto si avvicina dunque allo schema politico che si sta affermando a livello nazionale in cui gli acerimi nemici di una volta Democratici e 5 Stelle si ritrovano insieme nella rinnovata configurazione del centro-sinistra dopo l'approdo ai vertici di Enrico Letta da un lato e Giuseppe Conte dall'altro con il Tarantino Mario Turco tra i vicepresidenti prove tecniche ovviamente anche in vista delle elezioni comunali tarantine della 2022 in cui PD e Movimento potrebbero convergere sulla ricandidatura di Rinaldo Melucci ancora da decifrare invece la situazione al centro-a-destra la discesa in campo di patto per Taranto con il presidente della provincia Gugliotti in prima fila aperto diversi scenari una possibile candidatura unica con il centro-destra o con parte di esso senza fratelli d'Italia o la presentazione di proposte distinte con eventuali accordi in un possibile ballottaggio la strada è ancora lunga Pug la Giunta Lecce si approva i contratti di ricerca con Università del Salento e Politecnico di Milano un importante passo in avanti nello studio ma anche nel coinvolgimento della società Maria Teresa Carrozzo la Giunta Comunale di Lecce ha approvato i contratti di ricerca con l'Università del Salento e Politecnico di Milano che garantiranno alla redazione del nuovo piano urbanistico generale e ai tavoli tematici che ne caratterizzano il percorso il necessario supporto scientifico l'amministrazione intende in questo modo conferire un carattere innovativo al processo di redazione del Pug e dei suoi contenuti garantendo ad essi anche la necessaria coerenza con le sopraggiunte emissioni del PNRR i contratti di ricerca saranno sottoscritti per ciò che riguarda l'Università del Salento con i Dipartimenti di Beni Culturali di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali e avranno la durata di 24-26 mesi l'Uni Salento dal canto suo si occuperà invece di ricerca e supporto tecnico-scientifico dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso della procedura di valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza del Piano con la responsabilità scientifica della professoressa Irene Petrosillo con il Dipartimento di Architetture e Studi Urbani del Politecnico di Milano il contratto di ricerca prevede invece lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo a supporto tecnico-scientifico nell'Ufficio di Piano secondo i contenuti e la metodologia definiti dalla delibera di indirizzo l'unione di due università definirà in questo modo una sinergia innovativa e aperta che consentirà di accrescere il bagaglio culturale la redazione del Pug è stata una grandissima occasione per la città per generare e condividere conoscenze e consapevolezza guardando dentro e fuori se stessa sarà in questo modo un percorso serrato faticoso ma entusiasmante aperto e partecipativo al quale tutti sono chiamati a partecipare e prendere parte tra studenti e zii emigrati al settentrione in questi giorni per le feste c'è chi torna al sud c'è chi scende come si usa dire dalle nostre parti e tra loro ci sono anche personaggi noti come Michele Riondino attore Tarantino che si batte per l'ambiente lo abbiamo intervistato tra i tanti che tornano a Taranto per le feste c'è anche Michele Riondino il noto attore da tempo si batte per la sua terra un ambiente salubre senza più ricatti occupazionali messaggi lanciati molto spesso attraverso il concertone del primo maggio lo ritroviamo allo spazio porto con il live della factory handmade in Italy a Porta Napoli uno street market con la musica insieme a lui di Walter Pulpito Tonio Intermite e Vincenzo De Giorgio ritrovi una città viva che voglio di festeggiare nonostante quest'ombra e le legittime preoccupazioni per il covid una città che è cresciuta ma guarda io sono ogni volta che torno la trovo la trovo cambiata nell'anima più che nell'aspetto sai nell'aspetto ci sono dei dei tentativi di migliorarla però la cosa importante è cambiare è cambiare l'anima dei tarantini e l'augurio che faccio a Taranto è quella di sviluppare una consapevolezza la consapevolezza di vivere in una città bellissima che in tutti questi anni ha dimostrato a chi questa città non la conosce che Taranto non è solo ilva non è solo inquinamento ma è bellezza è sole come vai a raccontare un Natale a 18 gradi al sole qui ce la stiamo mettendo tutta ed è un'azione ed è un movimento egoistico questo lo facciamo per noi e inevitabilmente lo faremo per i nostri figli restiamo a Taranto ma ci affacciamo al mare perché sempre più negli ultimi anni si consolida un'abitudine l'arrivo di Babbo Natale questa mattina la peculiare iniziativa su proposta della Willa Pesca guardate complice è una bella giornata di sole Babbo Natale a Taranto è giunto dal mare ad attenderlo sulla banchina di via Garibaldi nella città vecchia tantissimi bambini l'iniziativa è stata della Willa Pesca del capologo ionico non c'era la neve neanche la slitta in cambio però il cielo terzo il mare fermo con un inedito Babbo Natale a bordo di una barca a remi come quelle usate dai pescatori di una volta all'interno dell'imbarcazione anche tanti sacchetti colorati colmi di regali per i piccoli del borgo antico Tarantino e Babbo Natale viene dal mare questo è il titolo della idea avuta dal sindacato di categoria della Willa Pesca con la quale ha inteso accendere un'altra scintilla nei cuori dei bimbi figli di maricoltori e pescatori della zona una bella occasione per riscoprire un antico mestiere recentemente andato un po' in soffitta proprio attraverso la magia del Natale con la presenza di un Babbo Natale marinaio non solo tradizioni dunque ma anche una bella occasione per sorridere per essere felici e per stare insieme in allegria dopo l'incendio dell'albero di Natale a Taurisano i cittadini si sono ritrovati per comporne uno umano poco dopo la consegna di un'installazione luminosa donata da un'associazione di un comune vicino è l'albero umano di Taurisano siamo in piazza Castello qui la notte di Natale poche ore dopo la nascita di Gesù Bambino un 35enne ha dato fuoco all'albero dei desideri costruito dai bambini delle scuole con la collaborazione dei genitori un albero fatto con cassetta in legno e che in pochi minuti è stato ridotto in cenere qualche ora più tardi dal tragico evento le associazioni cittadine non si sono perse d'animo e hanno realizzato questo albero vivente nel giorno di Natale un gesto che sta a significare che il Natale è dentro l'essere umano nel cuore e nelle azioni di tutti quanti noi e non può soltanto essere un addobbo una lampadina o una bete a ricordarci che è Natale in serata poi un'associazione di Taviano apprendendo la notizia ha contribuito consegnando un'installazione luminosa a forma di albero è stato presentato a Martina Franco un volume del giornalista Cristofaro sulla storica visita in Puglia del 1980 dell'allora Presidente della Repubblica Pertini quattro giorni storici indimenticabili raccontati in un libro quelli della visita in Puglia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dall'1 al 4 marzo del 1980 e si chiama proprio quattro giorni il volume scritto dal giornalista e saggista Ottavio Cristofaro per pose edizioni che descrive tutte le tappe di quella visita attraverso le testimonianze e le immagini dei fotografi dell'epoca tratte dall'archivio storico della famiglia Ingenito di Benvenuto Messia di Agenda Brindisi la pubblicazione è stata presentata nella biblioteca comunale di Martina Franca in una serata organizzata dal locale presidio del libro e dalle associazioni riflessi d'arte e condivisione Italia nel corso dell'incontro coordinato dal collega Eugenio Caliandro tanti gli ospiti il presidente della fondazione di Vagno Vito Mastroleo e la presidente della fondazione Grassi Franco Punzi l'assessore alla cultura di Martina Antonio Scialpi vita d'amico Antonio Posa Carlo Di Leonardo e le letture di Giovanna Salvatore e Davide Simeone Cristofaro ricostruisce minuziosamente quelle giornate con le tappe di Foggia Bari Turi Taranto Brindisi Lecce e Martina maglie in cui Pertini assieme alla moglie Carla venne accolto da folle oceaniche a Taranto ad esempio scelse di mangiare alla mensa dell'Ital Sider dove lavorava il cognato uno spaccato di storia e cronaca che ricorda uno dei personaggi più illustri e amati del novecento politico italiano C'è un'ultima ora che ci parla di lavoro la Nial Mail a Taranto società di recapito che opera la corrispondenza per enti pubblici tra cui comune di Taranto e poste italiane ha pensato bene di licenziare una sua dipendente a due giorni dal Natale lavoratrice che ha prestato la propria opera per oltre dieci anni e che quando ha deciso di iscriversi all'USB sarebbe stata destinataria prima di una sospensione cautelare poi di una lettera di licenziamento fondata secondo il sindacato USB su una inesistente segnalazione di Lamentele a denunciarlo e Francesco Marchese dell'USB lavoro privato di Taranto ricorderete su questo argomento che ci fu anche un sit-in proprio dinanzi a Palazzo di Città soltanto pochi giorni fa di cui gli abbiamo dato notizia dunque qui c'è un aggiornamento perché la lavoratrice è stata licenziata approfondiremo nelle prossime edizioni adesso ci occupiamo di sport perché in riferimento al basket alcune gare vengono sospese a causa del Covid ma Brindisi giocherà guardate sarà un turno da ricordare ma per ragioni sanitarie perché cinque delle otto partite sono state rinviate a causa del Covid l'ultimo provvedimento di sospensione è stato adottato nel pomeriggio di ieri dal presidente di Lega Basket Umberto Gandini che ha disposto il rinvio di Dolomiti Energia Trentino Opeb John Betis Varese in programma alle 19 la TS in Subria ha preso atto delle positività riscontrate nel gruppo squadra Varese ha imposto lo stop di tutte le attività agonistiche del team Lombardo e di conseguenza la Lega ha deciso di congelare anche questo match la Serie A andrà in scena soltanto con tre partite dunque forse sarebbe stato il caso di bloccare l'intera giornata e recuperarla il primo mercoledì di gennaio sia dopo la penultima di andata ma nonostante le sollecitazioni in tal senso la Lega Basket ha deciso di seguire questa linea di condotta per quanto riguarda i bianco-azzurri di coach Frank Vitucci reduci dall'importante successo interno controviso pur maturato dopo un overtime la gara con la Carpegna prosciutto Pesaro rappresenta una chance fondamentale in chiave Final 8 perché l'eventuale successo con i marchigiani avvicinerebbe moltissimo l'Epicasa al traguardo della qualificazione per la Kermest tricolore del prossimo mese di febbraio in programma proprio a Pesaro e adesso gli aggiornamenti di calcio della Serie C con Claudia Carbonara in Serie C c'è che il panettone non lo ha neanche addentato parliamo dell'ormai ex allenatore del Palermo Filippi il club rosa-nero crede ancora nella promozione diretta e per cui ha scelto Silvio Baldini per provare a rosicchiare i punti al Bari il club bianco-rosso si gode la sua leadership in attesa di affrontare da protagonista questo 2022 in realtà chi per un verso chi per l'altro le nostre pugliesi stanno dando tante soddisfazioni il Monopoli col suo secondo posto non era mai successo al Gabbiano di essere la vice capolista in Serie C al Giro di Boa classifica da record anche per la Virtus di Taurino che ha trafitto un'altra big il Catanzaro al nuovo Arred Arena ribattezzato un nuovo Fortino Arena e che dire del Taranto che dopo la sconfitta del San Nicola ha dimostrato una reazione da grande squadra vincendo le due sfide successive piegando la Turris davanti agli occhi atterriti dei campani con la restituzione dei punti di penalizzazione anche la classifica del Foggia sarebbe davvero interessante anche se Zeman ha fatto capire che comunque a gennaio la squadra va rinforzata discorso a parte per la Fidelisandria nel 2022 bisognerà ripartire dalla prova di carattere dimostrata a Castellammare di Stabia la sensazione che la squadra con il nuovo anno cambierà anche volto molti calciatori sono sul mercato e diversi potrebbero decidere di lasciare la terra federiciana ma quando torneranno ad allenarsi le nostre squadre? se per Taranto Virtus Francaville foggia la ripresa è prevista per questo 27 dicembre la Fidelis tornerà a far scaldare i muscoli con 24 ore di ritardo il bar il 31 dicembre vale a dire il giorno di San Silvestro mentre il Monopoli addirittura il 2 gennaio insomma ripresa a singhiozzo per i nostri pugliesi alle quali auguriamo di raggiungere i rispettivi obiettivi vediamo che cosa accade invece in Serie D con Giuseppe Andriani il Bitonto si è regalato un Natale in vetta nel girone C di Serie C il Cerignola invece resta alle prese con il Covid ma ha anche una grandissima occasione a gennaio dovrà recuperare le due gare non giocate la prima contro il Brindisi il 12 se l'audace dovesse vincerle entrambe andrebbe in testa da sola con tre punti di vantaggio su De Luca sembra delinearsi uno scontro a due ma occhio al Francavilla Insigni e anche al Gravina a meno 5 dal Bitonto e con tutto ancora aperto al di là delle dichiarazioni di facciata sull'obiettivo salvezza novità alla vigilia di Natale nella parte bassa della classifica la Virtus Matino che aveva già cambiato allenatore conquistando un punto in due partite con Toma nonostante una buona svolta dal punto di vista offensivo ha visto le dimissioni rassegnate dal direttore generale Alemanno esperto della categoria già fatta con Nardò e Casarano negli anni scorsi al contempo sembra fatta per la firma come direttore sportivo di Luigi Volume che si è già liberato dal Castellaneta in eccellenza si torna in campo il prossimo 9 gennaio dopo le feste c'è chi si riorganizza chi guarda avanti e chi invece è primo ma con la condizionale ce n'è di tutti i gusti oggi a partire a partire dalle 16 e 10 all'ippodromo di Taranto avrà inizio il pomeriggio trottistico incentrato sul Gran Premio Città di Taranto classica riservata ai 4 anni giunta la sua 36esima edizione che da quanto emerso con il nuovo calendario 2022 è inspiegabilmente cancellato dal prossimo anno malgrado la sua storia nella quale si ricorda anche il successo del 1999 di Varenni il cavallo più forte della storia del trotto mondiale ospite della giornata Paolo Belli che entrerà in scena a metà pomeriggio e che allieterà il pubblico con alcuni dei suoi pezzi insomma tante sorprese da scoprire nel pomeriggio odierno come abbiamo detto a partire dalle 16 e 10 presso l'ippodromo Paolo VI di Taranto grazie per la vostra attenzione è tutto per questo telegiornale di Santo Stefano naturalmente ancora un caro augurio a tutti voi affezionati telespettatori da parte della redazione giornalistica lo staff tecnico e tutta la struttura di Antenna Sud auguri e buona giornata a tutti i nostri spettatori grazie per la visione a tutti i nostri spettatori grazie 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 a tutti i nostri spettatori